bene cari amici di youtube benvenuti a questo nuovo video oggi vi mostro la mia lavatrice samsung che sta facendo un lavaggio di tende il lavaggio appena finito il lavaggio come si vede è stato parecchio schiumoso ora voglio farvi vedere se la lavatrice si affogherà di schiuma durante la centrifuga intermedia scusate il rumore di aspirapolvere che si sente di là ma vabbè vedo però che che con lo scarico dell'acqua la lavatrice sta pian piano diminuendo la schiuma quindi forse sì forse no ce la farà a smaltire la schiuma ma aspettiamo chiedo scusa se se il telefono e la posizione ma sto tenendo il telefono in carica perché se no anche se carico non mi fa eseguire i video perché boh sospetto sistema mi stia lasciando la batteria ma vabbè questo diciamo vedo che la schiuma la smaltita ha molto bene con lo scarico ma vediamo se riuscirà a partire in centrifuga senza problemi il programma che sta utilizzando è il rapido da 29 minuti con 30 gradi di temperatura 2 risciacqui e centrifuga a 600 giri ecco qua la macchina sta per partire in centrifuga ciao direi che è riuscita a smaltire la centrifuga senza neistruzlock spunto di centrifuga ok quindi va bene per questo video è tutto ci risentiamo in un prossimo video